20 diplomati potranno iscriversi al corso biennale di tecnico per il trasporto e la logistica che sarà avviato ad ottobre prossimo all'istituto Acciaiole e Naudi di Ortona. Il nuovo ITS, Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, nasce con l'intento di affiancare competenze e conoscenze alle leve del cambiamento della domanda mondiale, divenuta sempre più social con gli acquisti online e più esigente nella qualità e nei tempi di consegna. Gli allievi potranno formarsi in aziende leader del settore trasporti e logistica, comprenderne le dinamiche competitive e sviluppare progetti sperimentali di ecomotive e ecomobilità, nonché acquisire conoscenze in nuove tecnologie applicate. Il nuovo ITS Most sarà il quinto ad essere attivato in Abruzzo e, ha spiegato l'assessore Sclocco, fa leva sulla sinergia creatasi fra mondo dell'imprenditoria, istituzioni, associazioni di categoria, università, polo di innovazione e le quattro fondazioni già esistenti nei settori di energia, moda, meccatronica e agroalimentare. I dati ufficiali forniti dal Ministero del Lavoro, ha rimarcato Marinella Sclocco, parlano di un fabbisogno nell'ambito del mercato del lavoro di professioni specialistiche e tecniche, pare in una percentuale del 38,7% nel quinquennio 2016-2020. I percorsi formativi si rivolgono a giovani di età compresa, fra i 19 e i 35 anni, che avranno la possibilità di approfondire i temi della mobilità delle persone e delle merci, sia a livello di logistica distributiva, sia in termini di innovazioni collegate alla velocità e all'affidabilità del 5G. La specializzazione scientifica sarà delegata all'Università degli Studi dell'Aquila, al Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica dell'Università La Sapienza di Roma e all'ITS di Piacenza per la Mobilità Sostenibile. I percorsi, sostenuti finanziariamente da Regione Abruzzo attraverso il Fondo Sociale Europeo, avranno durata di 24 mesi articolati tra apprendimento in aula, laboratorio ed azienda attraverso un confronto diretto con leader di mercato ed operatori europei di successo.